9 personaggi famosi stanno per iniziare la loro fuga. Possiamo esagerare. Esageriamo. Vogliamo subito aprire questa boccia. Abbiamo una visuale sul target. Andate, veloci. Pluttati, vai, vai, vai. Hai sentito parlare di navigazione in un conico? Verificate ogni possibile nascondiglio. Ecco, con un po' di cazzo è proprio sufficiente. Amore? Vai, mangi, ma chi è? Ma che avete dormito qui? In una tenda. Qua nessuno ci troverà. Vai, vai, vai. Sono loro. Mai sottopalutare l'avversario. Sta senza pensiero. Dai, 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 dai! A quello che ci riserverà. Alex è gravi tutti. Salute. Grazie a tutti.